Ciao a tutti gli appassionati di Anime Manga, sono Alex, come sempre invito a seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche a me che potete prestare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Questo è il video delle novità mensili, in particolar modo mese di settembre 2022, quindi le novità che sono uscite sto mese, ovviamente nuovi manga che iniziano, nuove edizioni che iniziano, variant, manga conclusi o ristampe in modo particolare. Abbiamo, cominciamo con le novità, una novità è il cofanetto della maschera di Smout, edito da J-POP, 15€ cofanetto, potete trovare anche i volumi scingoli a 7,50€. L'uno è un manga di, manga, disegni di Gotanabe che ha attratto ispirazione un romanzo di Lovecraft, quindi sempre Lovecraft è quasi una garanzia soprattutto per chi ama i romanzi horror in generale, ecco. E quindi, comunque ci ho fatto un video a riguardo. Poi abbiamo Sensor, della Starcomic, prezzo 15€ di Junji Ito, è un manga che tratta un solo argomento, cioè non è una raccolta di storie, ma è una storia unica a capitoli. Quindi, questo, dispense a tutte le altre storie, è leggermente più blando a riguardo a horror, splatter, non che non ci sia, ma è più blando rispetto a tutti gli altri volumi che ho letto. Però carino, ecco, è stato carino. Comunque, uscirà anche questo video a riguardo che ancora non è uscito, quindi, però, uscirà, quindi. Lì parlerò più nello specifico. Poi è uscita un'altra novità, Boichi Short Stories 1 e 2, edito da Planet Manga, prezzo 9,90€ cada uno. Una sorta di racconti, cioè, è una raccolta di storie brevi fatti da Boichi, quindi, con i disegni pazzeschi, tematiche quasi tutte sci-fi, fantascientifiche, ci sono parecchie storie, quasi a totalità, drammatiche. Ci sono anche alcune storie comiche o divertenti, ecco, però la totalità è molto drammatica, sulla fine del mondo, che ti dà modo di pensare a cosa sta facendo l'uomo al pianeta. Comunque, anche questo, uscirà il video uno specifico, quindi, vi parlerò meglio nel video a riguardo. Poi, la novità, Tongan Anki, 5,20€, ci ho fatto già il video a riguardo. È uscito nella Blind Pack, quindi, la Blind Pack 5,20€, al cui interno trovate la regola, che vi ho mostrato, o la Limited a 1000 copie o la Ultra Limited a 100, quindi, devi essere inculato per trovare una di quelle due. Io non sono stato, quindi, niente, i disegni sono molto, molto belli, la parte più bella del manga. È un classico battle manga che, almeno dopo averlo letto, ho visto diverse ispirazioni da altri battle manga, quindi, almeno al primo volume non ha portato chissà quale inventate di novità, e quindi è un classico battle manga. Per chi piace il battle manga, probabilmente, piacerà anche questi, però, ecco, chi cerca qualcosa di diverso, almeno al primo volume non è questo il caso. Poi, magari, si evolverà più avanti, vedremo. La novità dell'anno, forse, non solo del mese, ma più dell'anno, quella che tutti, forse, aspettavano, Dan, da Dan, edito del J-pop, prezzo 6,50€, è uscita anche una variant, che poi vi mostrerò insieme a tutte le altre variant, al cui interno c'è un segnalibro, poi, i disegni sono pazzeschi, davvero pazzeschi, anche la storia, molto interessante, questo primo volume mi è piaciuto davvero da matti, abbiamo un protagonista che crede agli alieni, ma non crede ai fantasmi, mentre la coprotagonista femminile è il contrario, chiede ai fantasmi e non agli alieni, e quindi si sfidano perché ognuno crede che quello che pensa è la verità, ma in realtà esistono entrambi. Poi, vedete qua, la vera protagonista del primo volume, almeno, è la Turbononna, cioè, il linguaggio davvero sboccato, proprio, cioè, senza peli sulla lingua, praticamente, non è che ci sono doppi sensi, no, no, è senza peli sulla lingua, e in modo molto chiaro e schietto tutto, quindi, è un battle manga, il motivo lo capirete più, leggendolo, però è anche abbastanza, anzi, è molto comico, i disegni, devo dire che sono comunque pazzeschi, i disegni, ci sono quelle tavole che sono fantastiche, anche i primi piani, devo dire che sono, dicono la loro, ogni tanto, ci sono parecchie tavole senza sfondi, ecco, lascio lo sfondo bianco, però, guardate qua, guardate che tavolo ogni tanto, a me è piaciuto da tantissimo, sarà una posizione molto alta nelle migliori letture del mese, che uscirà stasera alle 8, quindi, attivate la campanellina, poi, altra novità, è Tatsuki Fujimoto, Store Stories, 22, 26, 10,90, questa edizione cartonata, è uscito a 6,90, l'edizione normale, non cartonata, questa invece è una raccolta di storie di Tatsuki Fujimoto, non ho detto che era da Star Comics, forse non mi ricordo, quindi, il creatore di Chainsaw Man, quindi molte storie si capisce molto che è l'autore di Chainsaw Man, perché alcune sono molto folli, esattamente come Chainsaw Man, che tra poco inizierà l'anime, da parentesi. Poi abbiamo una novità, l'altra novità, Shaman King Red Crimson, 5,90 di Star Comics, questo è spin-off sequel, si vuol dire, di Shaman King, incentrato sulla famiglia di Ren Tau, che c'è una guerra millenaria che la vede come protagonista. Oltre alla famiglia di Tau, Ren Tau, compare Oro Oro, è ambientato anni dopo, in cui Ren Tau ha già un figlio, e l'ultima parte di questo volume è stata abbastanza drammatica, e sarà anche la parte più bella, secondo me, perché non è che mi ha letto chissà cosa, però essendo una miniserie piccola, corta, 4 volumi, ho letto Shaman King, cioè per leggere questo ho letto Shaman King, se no è inutile prenderlo, ho detto sinceramente, e anche se ho letto Shaman King, come avete avuto modo di vedere nel mio video, se l'avete visto, non è che mi abbia ispirato chissà cosa. Poi abbiamo Ghost Girl 1, 6,90€, questa è l'edizione varia, perché la regola non l'ho presa, particolarità lettura all'occidentale, perché l'autrice, che è la stessa di Rosario Vampire, ha voluto così, la regola costa 5,90€ invece. Non mi dice nulla, cioè nel senso che sembra un manga, come tanti altri, infatti non lo continuo, o meglio, prendo il suo secondo volume così per curiosità, ma l'unica particolarità è che la protagonista ha 28 anni, a differenza dei battle manga che erano tutti 3, 4, 14, 17 anni, su tutti i minorenni, stava 28 anni, anche se gli hanno fatto disegni, caratter design, come se ne avesse 16, ecco, infatti tutti pensano che sia piccola, classico manga che sta andando in moda ultimamente sugli spiriti, sulla possessione, su Yokaima, le edizioni, quindi, ecco, quindi, ce ne sono tanti, ultimamente stanno uscendo su questa tematica, e quindi, boh, ce ne sono altri, secondo me, che sono meglio, e quindi, niente, comunque ci ho già fatto il video riguardo di questo invece, quindi, magari, lì ne parlo meglio, e beh, se dovessi parlare in modo dettagliato di tutti, uscirebbe un video lungo forse 3 ore, se non di più, quindi, ecco. Poi, altre novità che è uscita, il mistero di Ron Kamonashi, J-Pop 6,50€, questo giallo mistero, ecco, la particolarità, la parte più bella di questo manga è proprio il protagonista, che ha un carattere davvero interessante, particolare, ha delle bizzarrie nel suo carattere, ah, è davvero incentrico, ed è la parte più bella di manga, però sai perché, per il resto, non mi ha entusiasmato per nulla, anzi, anzi, e quindi, boh, infatti, ho deciso di non continuarlo, proprio per questo motivo, anche questo video vi uscirà più nello specifico, mentre uno che mi piaciuto parecchio, devo dire l'attesa della felicità di Bao Publishing, 8,90€, volume unico, è un manga semplice, easy, soft, non c'è azione, c'è un po' di mistero, perché ci sono due spiriti guardiani, però è un manga semplice, adatto per una lettura tranquilla, che va davvero molto tranquillo, tranquillo, lento, pacato, pacifico, i due protagonisti che, ognuno lavora con, ognuno ha un negozio, e sono in parte all'altro, e piano piano i sentimenti tra lo due, sconfuori, quindi è abbastanza molto semplice, molto tranquillo, e quindi magari è anche utile staccare un po' da tutti i manga frenetici, che è pieni di mistero, che ha mille cose da ricordare, questo è abbastanza semplice, non è un manga che bisogna stare lì, e cercare di capire, o leggere tra le righe, quello che leggi è quello, non c'è niente di sofisticato, o niente di complicato, è un manga di piacevole lettura, soprattutto per chi piace leggere, e passare del tempo immerso nella lettura, ovviamente chi cerca azione e quant'altro, ovviamente non è questo un manga, però a me è piaciuto molto, poi altre novità, a te che conosci l'Azzurro e il Cielo, 5,90 euro, manga sentimentale, con mistero, di questo video l'ho già fatto, è un manga breve, quindi lo concludo, proprio perché è breve, se no probabilmente l'avrei stoppato, se era più lungo, carino, la parte più bella è quella del mistero, perché, ma c'è qualcosa che mi ricorda altri manga, o altri anime che ho visto di questo genere, c'è qualcosa che me lo ricorda, quindi per ora non è che mi abbia ispirato chissà cosa, ecco, altra novità invece è questa, mi è piaciuta abbastanza, l'ultimo viaggio delle ragazze, volume 1, 695 di Goen, è un manga, è ambientato post-apocalittico, seconda guerra mondiale, in un mondo, con una storia diversa, cioè che il mondo, è stato dilaniato dalla guerra atomica, e non che, in uscita Nagasaki, è finito proprio, è stato dilaniato dalla bomba atomica, quindi, costruzioni, abbandonate, mezzi abbandonati, queste due ragazze, che cercano di sopravvivere nella loro quotidianità, tra pari virgolette, che ormai è diventata la loro quotidianità, 60 anni dopo quella grande guerra, i disegni molto carini, devo dire, ecco, quindi, ecco, è carino, anche questo sarà una miniserie, se mi ricordo bene, l'ho apprezzato, devo dire, poi altre novità, Swan 1, 12,50 della Goen, è un shojin centrato sul balletto classico, quindi, per gli amanti del balletto classico, che vuole, conosce qualcosa di questo mondo, c'è sentimentale, anche se nel primo volume, ce n'è poco, ecco, almeno il primo volume, non è incentrato su sentimentale, ma su far conoscere, la protagonista femminile, e, il mondo del balletto, con alcune cose, alcuni passi, la base, insomma, e quindi io penso che più avanti, arriverà parecchio sentimentale, perché ci potrebbero essere, non solo copie, ma anche triangoli amorosi, quindi, ecco, però sono curioso, e lo concluderò, perché, io i shojin avendoni pochi, cioè, non ne ho proprio così pochi, però, voglio ampliare la mia conoscenza, è un manga degli anni 70, quindi, è anche un manga, abbastanza vecchiotto, soprattutto, manga così datati, voglio leggere, anche perché, come ho già accennato, prima o poi farò, dei video top, per decadi, e quindi, mi serve anche per, nel caso, inserirlo, poi, novità, un'altra novità, il cofanetto, di Planet Manga, moglie di una spia, prezzo 14 euro, i volumi sono vendibili, separatamente, a 7 euro l'uno, è tratto da, da un film, giapponese, proprio la moglie di una spia, che ha vinto il leone d'argento, a Venezia, quindi, è un manga storico, sul secondo, periodo storico, seconda guerra mondiale, paese, giappone, e, un po' cina, carino, ecco, ma, sinceramente, mi aspettavo qualcosa di, più, meglio, qualcosa di, più accattivante, con più, un po' più di pepe, non che non ci sia, è una storia, comunque, con un fondo drammatico, che dimostra le brutture, gli orrori della guerra, però, avrei finito un carico emotivo, molto più, importante, perché, c'era il disegno, sembra che proprio, qualcosa di davvero drammatico, volevo un carico, magari emotivo, più forte, no, non è che non l'abbia apprezzato, poi, altre novità, solo, in a cage, volume, uno, prezzo, questo, è la limited edition, 11,90 euro, che, oltre, essere, variant, perché, la regola, è giallo, qua, la limited è oro, era insieme al confanetto, per contenere gli altri, due volumi, quindi, sapendo che tanto, facevo tutti e tre, perché, se prendono l'uno, lo vedo anche gli altri, prendo il confanetto così, li tengo insieme, però i disegni sono, molto, molto belli, uno stile molto adatto, la storia è molto interessante, molto drammatica, ci sono delle tavole, davvero molto, molto belle, e mi è piaciuto, ci ho già fatto video, riguardo, ecco, molto drammatico, sembra, potrebbe essere ambientata, negli anni venti, d'America, sembra come, cioè, con i boss, la mafia, degli anni venti, in America, almeno, come, modo di vestirsi, eccetera, eccetera, ovviamente, non è, il nostro mondo, c'è una città a prigione, che mi ricorda molto, Shiganshina, tra l'altro, dove da 60 anni, vengono messi, tutti i prigionieri, che, invece di avere diverse prigioni, lì, hanno loro case, vivono, figliano, creano famiglia, da soli, però, sta molto più drammatica, la protagonista, che è nata lì, con suo fratello, nato lì, riesce a evadere, però, suo fratello, cade, non sa più nulla, cresce, vuole tornare a recuperare, suo fratello, ma, cambia personalità, diventa fredda, con l'unico scopo, di trovare suo fratello, riuscirà, non ci è dato sapere, però, mi è piaciuto parecchio, solo, Cristina Cage, devo dire, poi, abbiamo, la novità, un volume unico, Usamo Tezuka, l'uomo che verrà, 22 euro, della Ikari, è una raccolta, di storie, una, l'uomo che verrà, che è la prima che troviamo, poi, altre storie, incentrate sulla fantascienza, anzi, è stato uno dei primi manga, che ha portato la fantascienza, nel mondo manga, e, quindi, è stato molto interessante, questo video, l'ho fatto, è uscito settimana scorsa, mi è piaciuto parecchio, soprattutto, certe storie, mi sono piaciute davvero molto, era il precursore dei tempi, forse troppo avanti, infatti, in quell'epoca che è uscito, i giovani, non l'hanno apprezzato, perché, forse manco l'hanno capito, è pieno tutte le potenze, l'età che poteva esprimere, anche a leggerlo ora, è molto avveneristico, e si fa capire, che Usamu Tezuka, era un uomo, molto, molto più avanti ai tempi, sarebbe avanti ancora adesso, probabilmente, e, quindi, davvero, io l'ho apprezzato, molto, devo dire, poi, Variant, oltre a quelle, che vi ho mostrato, Ghost Girl, Solo Istina Cage, e vediamo altre, Variant, quella di Sakamoto, 3, 19,90€, è una Limited, oltre la Variant, in copertina, aveva, come gadget, una maglietta, quindi, c'ho la maglietta, ecco, poi, la Variant, di Dan Dan Dan, il volume 1, ovviamente, 6,50€, di J-Pop, non è niente di che, però, ecco, è una Variant, l'Intern Edition, prezzo è 6,50€, come la regola, quindi, potete prendere, tranquillamente, la Variant, senza dover prendere, anche la regola, poi, la Variant, che è uscita, è One Punch Man, 25,7€, la Variant, non è la sovracoperta, perché la sovracoperta, è uguale alla Regular, perché la Regular, non ha la sovracoperta, ricordo, la Variant, è questa qua sotto, poi abbiamo, Manga, conclusi invece, Seraph O'Dend, Gurrenicinose, Catastrophe, X-Esteen, volume 2, 5,20€, che è il prequel, di Seraph O'Dend, con questo, si conclude il prequel, per avere un'ottica, più completa, dall'inizio, perché è iniziato così, il manga, poi si è conclusa, come ho accennato, l'inizio, Shaman King, volume 35, 5,90€, di questi, ci ho già fatto, il video tranne di, Seraph O'Dend, che lo farò, in volume 1, un video unico, quando finirà la serie principale, che non è ancora conclusa, invece, poi è concluso, il terzo, Occhi, usiamo, Tezu, che ha volume 7,15€, di questo video, invece, vi è già uscito, a riguardo, molto bello, soprattutto se vi piacciono, i misteri, popoli antichi, ancestrali, atlanti delle muria, eccetera, 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 poi ristampe, che ho fatto, non perché non è che per tutte le ristampe, Sido, 7, 7€, Ichi The Killer, 4, 7,50€, finalmente, le ristampe, il re lupo, la leggenda, il re lupo è Japan, Kentaro Miura, in collaborazione con Buronson, ecco, quindi, mamma mia, tanta, tanta roba, poi abbiamo le altre ristampe, che ha fatto di, Nozica, Cavale del Vento, 4 e 6, con questo, il video è concluso, mi raccomando, iscrivetevi, ci tengo tantissimo, attivate la campanellina, noi ci vediamo ai prossimi video,